Che succede? Sì, purtroppo non sono cose belle da raccontare, a quanto pare nel settore ospite e ospiti del Napoli sono state prima delle devastazioni come era già accaduto l'anno scorso, a quanto pare nei bagni altre zone sono state distrutte e con alcuni pezzi di porte o di rubinetti non si capisce bene cosa sono state presi da alcuni tifosi del Napoli e lanciati oltre le barriere che separano appunto il settore ospiti dalla curva della Juventus e sono rimasti allievi, fortunatamente, quattro tifosi della Juventus e comunque sono stati ricoverati in ospedale. Questa è veramente la nota negativa in una serata splendida dal punto di vista del calcio, dello spettacolo in campo, è davvero un'assurdità, in uno stadio senza barriere che fortunatamente rappresenta davvero la frontiera moderna del calcio. Soprattutto ecco, esatto, uno stadio molto.